Siamo nella stazione centrale di Milano, nel circuito Bivion di grandi stazioni. Il circuito diffonde promo commerciali su decine di schermi in tutta la stazione. La comunicazione commerciale, come si vede, predilige il modello televisivo con spot di 30 secondi a ciclo continuo. Tutti gli schermi hanno la stessa programmazione sincronizzata, in modo da dare un effetto avvolgente. La comunicazione commerciale, come si vede, predilige il modello televisivo puro con spot da 30 secondi a ciclo continuo. Dal 2010 il circuito è alimentato dalla soluzione di digital signage di Hitec. Ogni stazione ha una coppia di player multimediali collegati in rete IP che ricevono ed eseguono le playlist caricate dal centro. I player gestiscono perfettamente formati multi-zone, con contenuti di qualunque tipo, video, audio, flash, slideshow o anche pagine web. I contenuti video hanno, in sovraimpressione, un ticker di notizie a carattere nazionale costantemente aggiornate. Siamo a Cadorna, la stazione ferroviaria del gruppo Ferrovie Nord Milano. Magnifico teatro costruito apposta, sembra, per un circuito di digital signage. E qui è proprio il caso di dire che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Cadorna, QD70, display e totem, ciascuno con un proprio player multimediale, tutti collegati su una rete interna in IP. Comunicazione, come si vede, è ibrida. Ci sono schermi dedicati alla comunicazione istituzionale, avvisi ai passeggeri per informazioni. E ci sono schermi per la comunicazione commerciale, con il formato televisivo puro, ossia video a tutto schermo. Come si vede, tutti i display sono in sincrono audio e video. La sincronizzazione avviene a livello di player al millisecondo. Totem e display sono prodotti da FIDA, a standard IP65, per resistere a caldo, freddo e polveri con alti livelli di servizio. La programmazione prevede accensione e spegnimenti automatici dei display. La notte i display sono spenti e sono riaccesi al mattino. E il tutto è effettuato da playlist. A differenza del circuito di grandi stazioni, qui ogni display è autonomo. E anche in caso di guasto del singolo player o display, la programmazione va avanti. Show must go on. La regia per tutto il circuito di ferrovie Nord Milano è giustita direttamente dai responsabili della comunicazione del gruppo. La soluzione è ad altissima qualità e flessibilità, con contenuti che arrivano direttamente dalle produzioni professionali. Sono Ernesto Troiano di Hitec e vi saluto.